Musica Scattano domani le nuove regole della certificazione verde rafforzata. Solo le persone vaccinate o guarite potranno ottenerlo e sarà valido anche in zona bianca. La valorizzazione del quartiere feristico di Cagliari passa dal progetto di riqualificazione voluto da Regione Comune e Autorità Portuale. L'investimento iniziale ammonta a 72 milioni di euro. Il cimitero monumentale di Bonaria riapre alle sepolture dopo 53 anni. Spazio per oltre mille urne ma soltanto per le cremazioni. I costi dei cinerari familiari vanno da circa 2.500 euro fino a 4.800. La curva epidemiologica in crescita spaventa anche l'isola dove si vive con la paura della nuova variante Omicron. Ma spaventano anche i numeri dei sanitari Novax. Musica Benvenuti edizione della Domenica di TCS Notizie Allora. Ci siamo al via domani il Super Green Pass. La certificazione verde rafforzata che consente solo ai possessori appunto di questo documento l'ingresso a bar e ristoranti al chiuso ma anche eventi sportivi, feste e discoteche. Come ci dice in questo servizio Alessandra Dari. Scatta da domani il più severo regime del Green Pass rafforzato. Un provvedimento diretto ad impedire a chi non si è vaccinato di accedere ad alcuni posti pubblici. La certificazione verde sarà di due tipi. Una a base ottenibile anche con il tampone ed una rafforzata che potrà essere rilasciata solo a fronte della doppia vaccinazione se ancora valida o la guarigione dal Covid-19. Il governo ha specificato nei giorni scorsi anche la validità della doppia vaccinazione e quindi del Super Green Pass. Nove mesi dall'ultima somministrazione e non più 12 mesi. Per chi non è vaccinato dunque da domani sarà ancora più duro svolgere le normali attività quotidiane. Se avrà effettuato il tampone molecolare con la validità di 72 ore, antigenico della durata di 48 ore, potrà recarsi al lavoro, al ristorante se all'aperto, in albergo, compresi sala, ristorante, bar, centro benessere, piscina, dell'hotel, prendere mezzi pubblici, autobus, tram e metro, treni regionali, interregionali, aerei, palestre, piscine, spogliatoi, impianti sci all'obbligo del Super Green Pass scatta per l'ingresso in ristoranti al chiuso, le cerimonie pubbliche, per i teatri, cinema e spettacoli, per le feste e le discoteche, per l'accesso agli stadi e ai palazzetti, eventi sportivi con spettatori si specifica. Chi possiede già un Green Pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova certificazione perché sarà l'app Verifica C19 a riconoscerne la validità. Per tutti i vaccinati e i guariti dunque, il vecchio Green Pass si trasforma automaticamente nel Super Green Pass. Le regole sono valide a partire da domani, 6 dicembre, fino al 15 gennaio e saranno prorogabili, scongiurato il pericolo di una limitazione dei viaggi e delle vacanze. Per viaggiare localmente, infatti, non serve il Super Green Pass né durante le festività di Natale, periodo durante il quale serve invece il Green Pass anche in zona bianca per servizi come cinema e ristorante, né successivamente. Adesso parliamo della Fiera Campionaria di Cagliari. C'è un progetto di riqualificazione da 72 milioni di euro per offrire un'importante occasione di sviluppo alla nostra città. Vediamo. Se ne parla da anni, ma forse adesso è la volta buona. Per la riqualificazione della Fiera di Cagliari sembra arrivato il momento giusto. È poco conta che sia trascorso un decennio da quando è partito il concorso di idee per rinnovarne il look e funzionalità. L'importante è che ora tutto proceda verso un evoluto compendio fieristico e multifunzionale. Nel piano di interventi da 72 milioni di euro si concentrano le volontà di Regione, Comune di Cagliari e l'autorità portuale della Sardegna, così da dare una nuova vita a quel gigantesco spazio tra il mare di Susico e Via Le Diaz in un'area governata dalla Camera di Commercio del Capoluogo. Si va dalla realizzazione di un albergo alla creazione di un polo per le convention e il turismo congressuale fino all'ampliamento degli spazi dedicati allo sport e ai concerti. Le aree a disposizione diventeranno anche più ampie con la demolizione dei padiglioni considerati oggi non più funzionali e c'è anche una tabella di marcia che è detta ai tempi. Se tutto fila liscio non saranno lunghi. L'obiettivo è anche quello di rilanciare però la Fiera di Cagliari a cui siamo così affezionati. Il rilancio passa anche da queste iniziative che comunque riprendono una vita lavorativa quasi normale dove riproponiamo la tradizione che è sempre stata negli ultimi 40 anni alla Fiera di Cagliari. Certamente non passa solo il rilancio da questi eventi, passa attraverso altre dinamiche che a breve verranno comunque rese pubbliche, che già una parte era stata anticipata prima della pandemia sul progetto di riqualificazione che è sempre in piedi, cioè non è che si è solo fermato per ovvi motivi. E quindi adesso insomma in condizioni di normalità speriamo nel 2022 di riprendere il filo e di riportare a termine questo progetto. Che è un progetto molto bello, ambizioso ma comunque molto molto bello a livello non solo regionale ma direi nazionale. Sarà un bel quartiere sul waterfront di Cagliari che ovviamente attraverso tutta la sua riqualificazione avrà anche il quartiere fieristico. Insomma un modo per rispondere anche alle critiche dell'assessore regionale che ha parlato della Fiera come di un campo di bombardamento. Guardi io ho sorriso ovviamente perché non posso dire nulla sulle affermazioni dell'assessore che evidentemente avrà avuto in quel momento voglia di stimolare l'ambiente ha fatto un'affermazione certamente forte ma certamente di stimolo ma devo dire che tutti gli attori hanno portato a termine il loro percorso paradossalmente manca un segnale della regione per mettere, come posso dire, l'ultimo tassello nel progetto. Quindi diciamo che quella battuta penso che fosse più rivolta a se stesso o comunque all'ambiente piuttosto che agli altri attori che comunque hanno portato pressoché a termine il proprio mandato in questo senso. E rimaniamo a Cagliari perché il cimitero monumentale di Bonaria riapre dopo 53 anni alle sepolture. Ci sarà uno spazio per oltre i mille urne ma soltanto per le cremazioni. Allora i costi dei cinerari familiari appunto in questo servizio di Nicola Piso. Un monumento restituito alla città. Un lavoro collettivo, sorvente in denze comune, un fatto. Dopo 53 anni il cimitero di Bonaria riapre le sepolture. Un restauro importante, difficile, curato nei minimi dettagli. Vi spiegano Gabriella De Ida, assessora ai lavori pubblici, Rita De Dola, servizi cimiteriali. Un'area apertura quindi, mille urne dedicate alle cremazioni. A Bonaria riprenderanno le sepolture nella forma ovviamente dei cinerari familiari. E così come abbiamo stabilito con la delibera dei mesi scorsi, li renderemo fruibili alla popolazione. C'eravamo già visti per la cremazione, no? Adesso è un altro passaggio che forse chiude il cerchio. Sì, è un passaggio che vede letteralmente il passaggio di mano dall'assessorato ai lavori pubblici al mio assessorato per gestire appunto dopo il restauro effettuato all'Orto delle Palme che ha restituito al cimitero, alla cittadinanza, i cinerari familiari per appunto gestire in maniera autonoma dopo il restauro i cinerari familiari. Rita De Dola, assessora ai servizi demografici, orgogliosa del lavoro fatto fin qui, che conclude un percorso iniziato molto tempo fa. Lo stesso presidente Edoardo Tocco ringrazia tutta la squadra che ha lavorato alla riapertura. Riavolgendo il nastro della storia, il movimento del cimitero si fermò quasi nel 68. Abbandona il degrado, hanno fatto il resto, ma oggi la storia è cambiata. Restaurate colombari e 11 cappelle con un intervento da oltre un milione di euro. Si prevede una corsa alle concessioni perché Bonaria è considerato un pezzo importante della storia di Cagliari e dei cagliaritani. I costi cinerari familiari vanno da circa 2.500 euro per quattro urne a 4.800 per 6, durata 60 anni. E sempre a Cagliari, questa sera, dalle 19.30, in piazza Carlo Alberto, la cerimonia di chiusura di Kanuka, la festa delle luci della comunità ebraica, per l'occasione è stato anche ideato un percorso specifico per far conoscere i luoghi e la vita dell'antica comunità che visse nel quartiere di Castello fino al 1492, data in cui venne appunto emanato l'editto delle chiudende da parte dei regnanti aragonesi. Vediamo. Si svolgerà oggi, domenica 5 dicembre, a partire dalle 19.30, con una celebrazione pubblica in piazza Carlo Alberto a Cagliari, la cerimonia di chiusura di Kanuka, la festa delle luci della comunità ebraica. Ad organizzare l'evento è l'associazione Knabura, che da più di dieci anni attiva nel capoluogo sardo per la riscoperta e la valorizzazione della comunità ebraica, delle sue radici storiche e della sua cultura contemporanea. La festa ritorna nel capoluogo in una pubblica piazza dopo 500 anni per permettere a chiunque di potervi partecipare e sarà il culmine anche di un tour della giuderia guidato da Roberta Carboni, guida turistica e storica dell'arte, che condurrà i visitatori tra le strette vie di Castello, sulle tracce di quella comunità che visse in quei luoghi fino al 1492, quando venne emanato il famoso edito di Granara dai regnanti aragonesi. Kanuka, la festa delle luci, si celebra all'inizio dell'inverno, il giorno del sostizio, nelle case ebraiche e nelle sinagoge le luci si accendono per otto sere di seguito. Quest'anno la prima candela è stata accesa domenica 28 novembre e l'ultima oggi, domenica 5 dicembre. Non è una festa comandata dalla Torah, ma ricorda due eventi della storia del popolo ebraico, Il miracolo dell'olio e la vittoriosa rivolta di Giuda Maccabeo. Al via domani la settima edizione del Babel Film Festival 64, i film in concorso per la rassegna cinematografica che premia le opere in lingua comunitaria. Sono 64 i film che partecipano alla settima edizione del Babel Film Festival, il concorso cinematografico che dal 2010 dà voce alle lingue minoritarie, in programma da domani e fino all'11 dicembre a Cagliari. Le giurie sceglieranno le opere da premiare tra 16 lungometraggi, 49 documentari e 23 cortometraggi fiction. I film arrivano da tutto il mondo e confermano la vitalità di un settore cinematografico in costante crescita. Le opere che si contengono il riconoscimento più prestigioso e premio maestrale saranno scelte dalla giuria presieduta dal regista Alberto Negrin e composta dall'attrice Simonetta Columbo, dalla sceneggiatrice Lara Frender, dal produttore Samuel Julian, dalla giornalista Miriam Mauti, dalla produttrice Nadia Trevisan e dall'esperta di lingue minoritarie Miriam Vellinga. Nella categoria lungometraggi sono in gara 5 film, mentre sono 7 le pellicole inserite nella categoria documentari e 9 in quella cortometraggi. Ma il Babel Film Festival non è solo premi e proiezioni. Anche quest'anno, infatti, la Babel Academy, dal 7 all'11 dicembre, a Curie e Daniele Maggioni, presenterà incontri con esperti autori per offrire al pubblico uno sguardo qualificato su diversi aspetti del fare cinema. Cinque appuntamenti che abbracciano diversi aspetti della costruzione di un prodotto cinematografico e audiovisivo, offrendo punti di vista importanti e originali. Adesso una pausa di qualche minuto per la pubblicità. Di nuovo in diretta, perché questa è stata una settimana difficile anche in Sardegna per la lotta al virus, nel nostro approfondimento la paura appunto della variante Omicron. Allora, per saperne di più, siamo andati nei laboratori del Policlinico Universitario di Cagliari, dove si sequenzia appunto il virus. È una variante che è stata considerata da tenere sotto controllo perché ha 32 mutazioni, 3 delezioni, un'inserzione sul gene S che codifica per la proteina Spike, che è la proteina che serve per agganciare, per far sì che il virus si agganci alla cellula e poi possa penetrare. È evidente che se il vaccino viene preparato contro una determinata proteina, alcune variazioni possono far nascere il sospetto che questo accada. Al momento, dai casi che sono stati osservati, che però non sono tanti, perché stiamo parlando di qualche centinaio di casi, osservati nel resto del mondo e non in Italia, in Italia siamo veramente bassi come numeri, e pare che non ci siano condizioni particolari che possano indurre a grandi preoccupazioni. Tuttavia, la presenza delle mutazioni induce prudenza e uno studio approfondito del caso, della situazione di questa variante, è l'imperativo che dobbiamo seguire per non abbassare la guardia e per non generare dei problemi che poi potrebbero esserci. Quindi cos'è che vi preoccupa adesso come risalita dei contagi? Ma in questo momento io penso che sia opportuno rivalutare tutta la situazione, nel senso che si sono sicuramente ridotte le attenzioni verso le misure di contenimento, l'uso delle mascherine, lo stare assembrati, il mancato rispetto delle distanze, eccetera, e il mese che ci ha accompagnato fino adesso è stato abbastanza piovoso, quindi si tende a stare al chiuso e tutto questo facilita la diffusione delle patologie per via aerea. Questa è una di quelle patologie e di conseguenza è evidente che c'è un'impennata. Per il resto io credo che non sia cambiato molto, anzi abbiamo avuto la certezza, la prova che i vaccini hanno dato una grande mano e abbiamo la prova provata che i vaccini con il distanziamento sono un'arma formidabile, per cui non ci resta che prendere atto di queste conclusioni e portare a compimento quella che è la lotta al virus. Dicevamo quindi curva epidemiologica in risalita, ma comunque la pressione sugli ospedali rimane sempre sotto soglia. La saturazione è il sistema sanitario regionale è pronto ad arginare questa nuova ondata di contagi. Vediamo. Temiamo tutte le varianti perché c'è sempre il rischio che possono essere più aggressive delle precedenti, anche se in questo caso parrebbe di no, però ovviamente non abbassiamo mai la guardia e siamo pronti perché non abbiamo mai abbassato le misure di vigilanza né di contenimento né quelle di sequenziamento. Ricordo che siamo forse la regione che sequenzia di più in Italia e quindi questo non dico che ci mette al riparo però ci dà la tempestività per intervenire. Ci sono state già delle riunioni interforze per affrontare l'emergenza? Beh sì, comunque le strutture deputate sono sempre in allerta e sono sempre pronte ad intervenire. Dobbiamo temere questa variante Omicron? Siete già organizzati? Avete già una strategia? Dobbiamo temerla come abbiamo ottimato le altre. Abbiamo adottato tutte le procedure per individuare appena abbiamo il paziente zero in ospedale ovviamente e dalle informazioni che abbiamo per adesso non siamo particolarmente preoccupati. Comunque attrezzati? Siamo attrezzati. L'Omicron è davvero così pericolosa? No, dalle evidenze scientifiche ne parlavamo stamattina con il professor Cadori non risulterebbe così pericolosa. Il Green Pass però ha dato una grande mano alle vaccinazioni sono aumentate in grande numero. Sì, c'è stata questa impennata soprattutto nell'inoculazione di prime dosi e questo ci fa ben sperare perché ci sia un'ulteriore capacità di contenimento del virus da parte di chi ovviamente è vaccinato. Quindi insomma tra vaccinazioni già chi è malato insomma si spera di avere questa famosa immunità di greggio? Ormai mi sembra che gli scienziati abbiano stabilito che raggiungere l'immunità di greggio per questo tipo di virus credo che sia se non impossibile molto difficile però sicuramente la copertura immunitaria se tutti saranno vaccinati sarà il fattore determinante per la sconfitta di questo virus. Ma l'omicron non ci farà ritardare un'altra volta la riforma sanitaria? No, assolutamente no. Il primo gennaio la riforma sanitaria partirà e cesserà il regime commissariale. Nell'attesa quindi della riorganizzazione del sistema sanitario nell'isola questo argomento è stato proprio al centro di un convegno organizzato dalla facoltà di medicina a cui ha partecipato anche il presidente Cristian Solina si è presidente della regione e si è soffermato in particolare sulla carenza cronica di camici bianchi in Sardegna. Sentiamo Alessandra Dari. Un convegno per salutare l'ingresso dei giovani studenti che stanno per affrontare la scuola di specializzazione in medicina e chirurgia è stata l'occasione per le molte istituzioni presenti per parlare di una sanità che nel periodo di pandemia ha mostrato tutte le sue criticità prima fra tutte la carenza di camici bianchi ed è l'aspetto sul quale si è voluto soffermare il presidente della regione Cristian Solinas un tema a lui caro già nelle settimane scorse aveva fatto appello alle autorità ministeriali perché permettessero per un periodo anche transitorio l'ingresso alla facoltà di medicina di un numero maggiore di giovani la cattiva programmazione ha detto ha fatto sì che oggi ci troviamo in una situazione disastrosa di carenza cronica del personale viviamo un tempo di profonde rapide mutazioni epocali la pandemia ha solo accelerato un processo che era già in corso dire che i sistemi sanitari sono entrati in crisi con la pandemia non è un'affermazione scientificamente corretta i sistemi sanitari di tutto il mondo vivono da qualche tempo delle criticità e delle complessità che sono oggetto di studio oramai da più parti ma se andiamo a guardare i numeri facciamo l'esempio dei medici di medicina generale sappiamo che annualmente per i prossimi cinque anni avremmo in media 11.000 ingressi a fronte di 33.000 uscite al 31.12.2014 il sistema sanitario regionale aveva 18.251 unità nel 2019 cioè all'esito di un quinquennio queste unità erano 14.862 cioè abbiamo avuto un delta di 3.389 è chiaro che e questo è prima della pandemia già allora c'era un problema enorme rispetto al dimensionamento del nostro sistema sanitario nel anno peggiore quello della pandemia del 2020 non ci siamo fermati abbiamo avviato ulteriori procedure per il reperimento di medici è stato detto abbiamo aperto anche alla possibilità e di questo voglio ringraziare sentitamente tutti gli specializzanti senza i quali non saremmo stati in grado di gestire questa grande emergenza e continuiamo a parlare di medici ma in particolare di quelli Novax cioè dei sanitari appunto non vaccinati che non possono lavorare non possono esercitare la loro professione allora nei loro confronti è scattato un blitz dei carabinieri in tutta Italia da questi controlli è emerso anche l'esercizio abusivo della professione di una dottoressa cagliaritana vediamo nel momento in cui l'Italia entra in una fase chiave della lotta contro il nuovo coronavirus con l'Europa sotto pressione per gli effetti di una nuova e travolgente ondata di contagi che comincia ad impensierire anche il nostro paese con la crescita dei ricoveri ci si trova ad affrontare anche il problema dei medici e sanitari Novax senza vaccino non si può lavorare la regola è chiara fin dall'inizio e vale per gli ospedalieri quanto per i medici di medicina generale e mentre si lotta contro la nuova emergenza sanitaria dunque scattano raffiche e controlli da parte dei NAS dei carabinieri sul rispetto dell'obbligo vaccinale da parte di chi esercita le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario i militari hanno agito d'intesa col ministero della salute per individuare i professionisti sia in ambito pubblico sia in regime di attività libero professionale in studi ambulatori privati che continuano ad esercitare l'attività nonostante siano privi di vaccinazione anti-covid fino ad oggi sono state verificate circa 4.900 diverse situazioni tra medici odontoiatri farmacisti veterinari infermieri fisioterapiste e altre figure per un totale di 281 quelle irregolari in particolare 126 di queste eseguivano prestazioni seppur già destinatari del provvedimento di sospensione dall'ordine professionale su segnalazione dell'autorità sanitaria continuando a svolgere la libera professione negli studi medici di proprietà o negli ambulatori ma anche all'interno di reparti in ospedali pubblici e cliniche private condotte che hanno portato alla denuncia per esercizio abusivo della professione sanitaria verifiche che hanno interessato anche l'isola 8 i medici di famiglia individuati in Sardegna Abruzzo Campania e Lazio che non si sono mai sottoposti all'immunizzazione come nel caso di un medico di medicina generale con studio in provincia di Cagliari già sospeso ufficialmente dall'impiego e dall'ordine professionale a causa dell'omessa vaccinazione che è stato sorpreso mentre continuava proprio a svolgere l'attività si tratta di una dottoressa di 50 anni caglieritana subito denunciata per esercizio abusivo della professione e per questa edizione è tutto io vi ringrazio per aver scelto anche oggi la nostra informazione e vi rinnovo gli auguri per una serena domenica arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.